Un giarrese è stato sottoposto ai domiciliari per droga. I carabinieri della stazione di Giarre hanno infatti arrestato un 42enne del luogo in esecuzione di un provvedimento per l'espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte di Appello di Catania. L'uomo dovrà espiare la pena di due anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato che è stato commesso a Giarre nel 2004. Il 42enne, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto in regime di detenzione domiciliare.